E parliamo invece anche della provincia, il DDL che vede svuotare le province, non piace, ma l'aveva più volte ribadito, insomma, la stessa Presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, che siamo andati a sentire e ci ribadisce come questo DDL in qualche modo favorisca, dice il Partito Democratico. Perché? Perché come la provincia di Venezia ci sono altre realtà che diventeranno città metropolitane e la stessa Zaccariotto, dice, tutti a guida di esponenti del PD. Presidente della provincia, Francesca Zaccariotto, cosa c'è di nuovo in questo DDL che è stato approvato ieri con la fiducia in Senato? Ma diciamo che di nuovo c'è l'isolamento di un sindaco della città capoluogo che è l'unico che si occuperà di trasformare la provincia in città metropolitana. E quindi invece di creare un lavoro sinergico con il territorio e assieme alle istituzioni che governano il territorio, si è preferito lasciare il potere totalmente al sindaco della città capoluogo. Pensare male si fa peccato ma quasi sempre si indovina, basti pensare insomma che le dieci città metropolitane sono solo ed esclusivamente a guida del PD. Cosa ci guadagnano i cittadini abolendo le province in questo modo così repentino senza il coinvolgimento né delle province né delle regioni? Questo purtroppo in termini di danni o di opportunità li conosceremo sempre solo a lungo termine. Quello che oggi posso dire sulla base della legge che è stata approvata è che avremo sicuramente un grande vuoto che va dal momento in cui cessa la guida, il governo politico-amministrativo della provincia e subentra un regime di prorogazio che ingessa totalmente quella che è l'amministrazione provinciale o della futura città metropolitana. Quindi se noi pensiamo che il legislatore oggi dice che vengono prorogati a titolo gratuito Presidente e Giunta solamente con poteri di fare atti urgenti e improrogabili si capisce bene che nessun tipo, nessuno si assumerebbe alcuna responsabilità a fare scelte che permettono lo sviluppo di questo territorio.